Grazie a tutti. 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 Buongiorno ... 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 ...... ...... ...... ora ci sono che corron di in questo nuovo Red Cross di Campo in 71 se li per oggi che dino Red Cross di 66 Campo ci sono una giovane e affilazione di gioco e questo Prakistan è con la sua e adesso che che Bharat e Prakistan Quale è il nostro corso di colore di Gesù che si fu a mai avuto La scuola e questo bhaerat paakistano qui crescibbi non si 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 a man and physically schud vordi me a que vordi me 1992 se l'è ma bèhen bèti e bèzergò qui bèhormatia un c'è 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 Svai, Zlut, Ruswai e e come un'e non è un'attimo un'attimo anni poi Islam e un'attimo il suo nome e il suo nome l'acquittà che cosa è l'acquittà 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 mi ha Quindi e ci sono i amici e l'anno passato non scusmare la routine dalle delle cose un suolo ci sono inizia che un giorno un giorno un giorno un'anno è inizio che c'è che l'Asia di che che l'Asia l'Asia che l'Asia l'Asia che l'Asia l'Asia questo è il obiettivo Non sono musulmane non sono musulmane qui è il paese. Allora di questa inizia 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 inizia. ma d'aicchè califo abu peccar al-baghdadi e uscilias khulhaham bait karne kia elanat nahi bait ki jai Grazie a tutti 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 Grazie a tutti